con te è il nostro saluto in damanhur che fa riferimento alla connessione che c'è tra tutti noi che facciamo parte di un tutto unico mentre parlo le note di pianoforte sono prodotte da una pianta mediante la tecnologia della musica delle piante sviluppata a damanhur insieme ad un sottofondo eseguito da un musicista damanhur condivide questa meditazione in questo momento particolare con le intenzioni di unire il nostro potere creante per produrre un salto di consapevolezza e inviare una intenzione collettiva di guarigione del pianeta siamo in un periodo importante in cui possiamo fare un balzo come genere umano in damanhur riteniamo che in ogni momento ci siano linee temporali verso tutti i futuri possibili se l'umanità riesce ad elevarsi di frequenza può scegliere la linea temporale in cui siamo in armonia e in comunicazione con la coscienza vegetale e le nostre azioni sul pianeta sono in linea col guarirlo in damanhur pensiamo che insieme raggiungeremo un nuovo livello di risveglio ascolta questa meditazione come parte della tua pratica spirituale quotidiana usa la tua coscienza e il tuo potere creativo per guarire il pianeta e rafforzare il risveglio dell'umanità il risveglio della coscienza collettiva non pensare al come o quando lascia che l'universo venga incontro con possibili soluzioni ora siediti o sdraiati in una posizione comoda e rilassa il corpo chiudi gli occhi concentrati sul respiro inspira delicatamente ed espira senza sforzo inspira e espira ora concentrati sullo spazio all'interno del tuo corpo e sullo spazio attorno al tuo corpo inizia con avere consapevolezza dello spazio nell'addome e ora lo spazio attorno all'addome successivamente successivamente diventa consapevole dello spazio nell'area del cuore poi lo spazio intorno all'area del tuo cuore passa a diventare consapevole dello spazio nella gola e poi dello spazio intorno alla gola della tua testa e e dello spazio intorno alla tua testa ora percepisci tutto lo spazio attorno al tuo corpo e diventa consapevole dello spazio attorno allo spazio attorno al tuo corpo continua ad espanderti apprendoti sempre più fino a quando non ti senti un tutt'uno con lo spazio sconfinato delle possibilità illimitate sei pura coscienza ora percepisci con tutti i tuoi sensi una realtà di risveglio collettivo sperimenta come tutte le persone sono volontariamente consapevoli nel momento presente percepiscilo in tutti i suoi dettagli come ci comportiamo come amiamo come rispettiamo guardalo guardalo ascoltalo sentilo annusalo gustalo gustalo e senti l'amore e la gratitudine per la realizzazione di questa consapevolezza collettiva sul pianeta il risveglio collettivo dell'umanità senti la gratitudine come se questa realtà stia già accadendo adesso percepisci l'ambiente dell'umanità il pianeta, il mondo vegetale, le specie animali. Renditi conto di come siamo alleati di altre specie nel vivere sulla Terra. Scopri come il pianeta sta fiorendo, come l'acqua è pulita, come l'aria è pulita. Sperimenta come siamo uniti con la coscienza vegetale e tutta la vita e l'intelligenza che vivono in simbiosi con le piante. Guardalo. Osservalo. Sentilo. E ascoltalo. Ascolta le splendide armonie della natura. Annusalo. Questa condizione di tutta la vita sulla Terra in piena salute. Gustalo. Riempi tutti i tuoi sensi con questa nuova realtà. Senti l'amore e la gratitudine per questa nuova realtà, come se fosse già accaduta. Siamo nello spazio sconfinato in cui abbiamo il potere creativo di aiutare il risveglio collettivo dell'umanità e aiutare ad avere un pianeta sano. Senti la gratitudine per questa condizione. Ora, lentamente, torna al tuo corpo. Ritorna con i tuoi sensi nel qui e ora. Porta con te quello che hai percepito. Ripeti questa meditazione con noi ogni volta che lo desideri, per rafforzare la manifestazione di questa nuova linea temporale. Io sono con te. Io sono con te. Grazie a tutti